E questo suono? Lo suono dove viene? Un suono tipico Ricorda un luogo Un trullo Ma sì! Il trullo dove è stato registrato Oval Dreams E questo suono? Che cos'è? Che cos'è? Suono l'oro Sono il trullo con l'Agua Un drullo Un drullo Un drullo Un brulletto Un gr Eso Grazie a tutti. Grazie a tutti.